Non so voi, ma a me preoccupa quello che sta succedendo nel mondo. Mi preoccupa molto la struttura, mi preoccupano molto i sistemi di controllo, quelli che controllano la mia vita e quelli che vogliono controllarla ancora di più. Io voglio la libertà, questo voglio, e anche voi dovreste volerla. La verità è lì davanti ai vostri occhi, ma loro ti offrono un buffet di bugie. Io sono stufa di tutto questo e non ne assagerò un solo boccone, capito? Resistere non è inutile, alla fine vinceremo questa battaglia. L'umanità è troppo forte, non siamo un mucchio di mezzo e cartucce, per questo ci batteremo e alla fine saremo esseri umani. Ci esalteremo per tutte le cose vere, per le cose che impancano, per la creatività e lo spirito dinamico dell'essere umano che rifiuta di sottometterci. È tutto quello che avevo da dirvi, adesso tocca a voi. La maggior parte della gente è stupida. E alla gente stupida piacciono le cose stupide. Hey you, you're an idiot. I'm really tired of being nice to stupid people. You need to wake up and do something. And the majority are saying, what do you mean? There's nothing wrong or... Yeah, there's something wrong, but... It doesn't really affect me. I have more important things to do, like make money and watch TV and make babies. It seems like people all around me don't really care about the world. I feel like I don't have anyone close to me who feels the same way I do. And it's really depressing. I'm sorry. I'm sorry. I don't even love journalism. Grazie a tutti.